I sistemi di tracciamento Bluetooth nascono con la finalità di permettere alle persone di ritrovare i propri oggetti smarriti, come una borsa, delle chiavi, però purtroppo vengono utilizzati anche in maniera illicita per tracciare degli spostamenti, come nei recenti casi di stalking. Le casi produttrici per arginare questo utilizzo inappropriato hanno implementato dei sistemi di alert, come far giungere una notifica sullo smartphone della persona che è nelle vicinanze di questi dispositivi per un determinato tempo, oppure facendogli emettere un avviso acustico in maniera sistematica. I consigli sono quelli di dare massima attenzione a questi avvisi e di non sottovalutarli e in caso di individuazione di questi dispositivi di tracciamento di recarsi immediatamente presso una stazione carabinieri per denunciarne il rinvenimento. Successivamente noi svolgeremo tutte le indagini del caso, sia di tipo informatico che tradizionale, per individuare la persona che l'ha installato.